Concludiamo ancora con i saluti, vado a salutare e a ringraziare per la sua disponibilità il responsabile Italia di The Trading Pit, ovvero il buon Fabrizio Alessandro. Fabrizio davvero grazie per essere stato con noi e averci presentato The Trading Pit, spero in una prossima collaborazione con voi e un in bocca al lupo per tutto. Grazie mille a te Michele, proveremo a lavorare insieme l'anno prossimo, sarebbe una bella novità per il 2025 e spero proprio che riusciremo a fare questo accordo e considerami sempre a disposizione per le tue dirette, è sempre un piacere stare con te e con tutti voi. Grazie, grazie davvero Fabrizio. Prima di concludere volevo ricordare ancora per il Black Friday lo sconto del 25% su tutti i prodotti per quanto riguarda The Trading Pit, visitate il sito thetradingpit.com e lì troverete tutte le informazioni. Fabrizio io ti saluto, ti abbraccio, ti auguro ancora un buon martedì e magari ci vediamo alla prossima. Grazie ancora Fabrizio. A te, un abbraccio. Una buona serata dunque ancora al responsabile Italia di The Trading Pit, partnership con Zenefx, salutiamo anche Costantino Zenonos che ci ha dato la possibilità appunto di contattare il buon Fabrizio Alessandro. Lasciatemi salutare anche dei carissimi amici, lasciatemi salutare anche Fabio Larosa, Rosita Furnari, davvero carissimi amici della MQL Suite e le abbraccio anche con loro magari ecco cercheremo di imbastire una collaborazione per il prossimo anno. E allora andiamo con il saluto finale, andiamo con il nostro dottor Michele Pellegrino, il nostro specialista, il nostro macroeconomista d'eccezione, la punta di diamante del nostro appuntamento. Doc è stato...